buongiorno buonasera siamo qui con un vecchio xiaomi 8t con android 10 e xiaomi.eu AA wireless e una è un audi con il sistema android auto solo via cavo e quindi purtroppo non wireless che cosa facciamo con AA wireless vogliamo rendere quest'auto con android auto wireless accendo il quadro come vedete il cellulare non è non è collegato via cavo accendo il quadro tolgo dalla modalità aereo lo smartphone in modo tale da fare una prova il più possibile veritiera ecco tolto adesso ecco siamo sulla sull'app vedete come simula una prima configurazione guardate fulmineo si sta già ha già visto android auto wireless guardate in giro di pochi secondi abbiamo l'app collegata a all'auto e vedete anche il cruscotto riconosce la presenza del del dispositivo ecco ha funzionato perfettamente ha funzionato anche col mio samsung a 52 non ho fatto vedete particolari settaggi che sarebbero possibili vedete c'è impostazioni telefono se uno ha problemi può smanettare nei vari settaggi ma se tutto funziona io lo sconsiglio io ho provato anche altri dispositivi ho provato carling kit 4 ho provato car saifi ho provato 8 cast u2x e devo dire che di questi che ho provato per adesso lui è il migliore perché non mi ha dato problemi perché viene visto dall'auto come se fosse effettivamente un android invece per esempio carling kit 4 e 8 cast u2x funzionano sì via wireless però il vostro il vostro sistema multimediale vedrà un iphone quindi voi avete un android lui vedrà un iphone collegato via wireless questo non non cambia molto nella sostanza però per esempio nel display del del cruscotto della mia auto quando è collegato via come se fosse un iphone non vedo le per esempio le le immagini le copertine dei la musica su spotify insomma sinceramente c'è una qualche perdita quindi con a wireless che si compra non su amazon ma sul loro sito e arriva nel giro di poco perché è spedito dall'europa avrete tutto ciò che desiderate cioè uno smartphone connesso senza fili al vostro sistema multimediale android auto e tutto funzionante tutto perfetto arrivano anche gli aggiornamenti via otta ho visto e quindi questo è quanto ciao a tutti